Sono Michelangelo Miceli, medico di lungo corso, e Francesco Procopio, dirigente di vasta esperienza, i nuovi direttori sanitario e amministrativo dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valencia. Subentrano a Carlo Truscello e Francesca Cupo, che hanno presentato le dimissioni nei giorni scorsi. Tempo dispò il system in una delle aziende più critiche della regione, come le altre, destinata a scomparire, almeno secondo il piano della giunta regionale che, con propria proposta, intende tenere a battesimo l'ASOR, ovvero l'azienda sanitaria ospedaliera regionale. Un'idea per abbattere centri di business e di potere, ma anche gli sprechi, così per il governatore Mario Liverio. Un'idea che però sembra poco gradita al commissario al piano di rientro dal deficit, Massimo Scura. Principale obiettivo del nuovo management dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valencia, quello di riuscire a mettere in porto, secondo i tempi previsti, quindi 22 mesi dall'apertura dei cantieri, il nuovo ospedale di Vibo Valencia, quello che dovrebbe portare, come annunciato sin dai tempi del governo loiero, il nome di Federica Monteleone. Nuovo ospedale, quindi avamposto di saluto e simbolo del riscatto di una provincia che non vuol più aspettare.